Attenzione a queste palline attive, bravissimo Albertini nel cercare i compagni e qui è Maldini che butta per terra in area di rigore Rosso Nero Locatelli, Collina fa proseguire. Qui c'è una conclusione di Bertotto che vede Rossi comunque ben disteso, ancora un calcio d'angolo e Magnero va al colpo di testa. La ripresa fuori Leonardo e dentro Maini per dare più vitalità al centrocampo. L'Udinese con Birov non era in serata di grazia, era giunto da Calori. Qui c'è Gantz che subentra a Magnero, siamo già al 18esimo e attenzione inizia lo show di Kluivert, sempre cercato da Albertini su palle ferme, ancora bravissimo l'olandese in questa torsione a girarsi. Turci è battuto, la palla va sul fondo. Maldini non è il meglio, entra Smoye, ancora Maini cerca Gantz, esce Turci e controlla così. Udinese che punta allo 0-0, sbuca ancora la testa di Kluivert, bravissimo Turci a mettere in calcio d'angolo. Delusione sul volto di Capello, Milan decisamente migliore nel secondo tempo, straordinario Kluivert.